Torino, città medaglia d'oro della Resistenza, luogo natale di Primo Levi, è portatrice di valori e tradizioni che ne fanno una trincea contro ogni dispotismo e totalitarismo. Quindi sta a noi tutti, italiani per nascita o per scelta, nelle nostre case, dentro le nostre famiglie, trovare in queste radici di libertà la capacità di scongiurare il contagio della paura, chiamare il nemico geatista con il suo nome e sbarrargli la strada, con la forza del diritto, il rispetto della Costituzione e della nostra personale determinazione.